Ma di pelle è fatta anche l'antica maschera del carnevale sadalese. Un po' come avviene in altri centri dell'interno della Sardegna, anche qui la maschera è ispirata a misteriosi esseri dalle sembianze animalesche. La maschera di Sadali, dal nome Zurzu, è stata riscoperta solo di recente, grazie ai racconti delle persone più anziane che ne hanno consentito il recupero. Io ho fatto un po' come questa maschera, perché ho usato fuori con la mamma e la famiglia, dopo i due uviri e la gente dove si è andato a due uviri. Quando io ho fatto un po' come si è andato preso, io ho fatto un po' come si è andato preso, e io ho fatto un po' come si è andato preso, e io ho fatto un po' come si è andato preso. La Sardegna è stata una bestia che non ha piantato mai, perché era un po' più pericoloso, e le persone erano anche se erano e sono male. e le persone sono andato preso, e questo è un po' come si è andato preso, e questo è un po' come si è andato preso, e ci sono andato in piazza, e ci sono andato in piazza, e ci sono andato a perdere. Ormai, dopo la riscoperta dell'antica maschera, anche il carnevale sadalese è diventato un appuntamento molto atteso, non soltanto dai locali, ma anche da tantissimi visitatori provenienti da ogni parte dell'isola, e oltre. Un'occasione che diventa lo spunto per una visita più accurata in questo territorio. Grazie a tutti!